Madre di misericordia, ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. In un silenzio denso di spiritualità, Papa Francesco ha rivolto alla Madonna di Pompei la sua preghiera per il mondo. Sulle orme di Giovanni Polo II e Benedetto XVI, il Pontefice ha raggiunto in elicottero il Santuario Mariano, uno dei più frequentati al mondo, intorno alle ore 8, accolto da migliaia di persone giunte sin dalle prime ore del mattino. Una visita a Lampo, prima di immergersi nella lunga giornata a Napoli, che ha permesso comunque a Papa Bergoglio di rimirare l'opera dell'Avvocato Pugliese Bartolo Longo, beatificato da Giovanni Polo II nel 1980. Egli rispose alla chiamata della Vergine a diffondere il Rosario con la costruzione del Santuario e la promozione di iniziative e pubblicazioni, tradotte poi in varie lingue. Tra enormi difficoltà e avversità, questo Apostolo del Vangelo creò anche istituti di carità, diffondendo l'amore di Dio, soprattutto tra i poveri. Nella bellezza dell'opera condotta da Bartolo Longo, il Pontefice ha rivolto la sua supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei, ricordando che questa catena dolce che ci annoda a Dio può essere arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino. Grazie a tutti.